Grazie a tutti Grazie a tutti Io sto facendo un video 45 tirati o facciamo due sottotempi da 20? No, due 45 Poi giochiamo con Giorgio e Luca, centrali difensivi Poi i due stelle sono Claudio Mominelli e Ricky Ok? I due centrali centrocampo sono i due provatà Nunzio e Luca Davanti ai due provatà c'è Mario E a punta in cofissa Andrea Scusa Leo, Leo Leo, ho sbagliato Leo e Cristiano No, Cristiano Leo dalla parte Tu dall'altra parte 4-4-2 Oh ma abbiamo un po' della squadra Speriamo bene Speriamo bene Speriamo bene Stai capitano, stai lì Video eh Video eh Due tempi da 45 Due tempi da 45 Andre Due tempi Come la metà dei tuoi chili 45, 45 e 90 Con intervallo di due ore Con intervallo Leonetti corri Tu eri l'unico che correvi Ah ma c'è anche Daniele Io cambierai la punta La posa di Stoglio è quella di da 25 anni Allora qua Su la faccia C'è il su Vai vai da solo da solo Ricky vai 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 Spingi spingi Ricky Sì Andre Minchia sto realmente solo Cambio di Andre Andre Cambio Minchia Andrea ce la fa più Non ce la fa più Siamo rovinati È arrivato Massimo Siamo rovinati Un altro che non corre Non correva neanche da ragazzino Guardate adesso Guarda che cazzo della sei arrivato Ragazzi Ragazzi io se li ho toccati col treno Dai Non mi dico i giorni Il treni non fa mai Oh una cosa volevo dire ragazzi Cioè non aspettiamo tutti la palla davanti a fare gli attaccanti Cerchiamo di correre un minimo ciascuno Perché sennò Stiamo giocando Ma uno può anche correre 10 secondi Ma che corre 10 secondi Non ti contiamo a chiedere palla là Perché per portare là bisogna farsi un culo così Cioè cerchiamo di correre anche 10 secondi Però corriamo Non ce la fa più Cambio L'altro corre un minuto Cambio L'altro corre 10 Cambio Che tutti che aspettano là sono capaci che mi metto là Chiedo palla e basta Cioè impegniamoci a prendere sta cazzo di pasta Lo prendiamo tutti a vuoto Cioè ognuno si tenga una posizione e tenda quella Poi facciamo 6.000 cambi facciamo Tutti vogliono fare gli attaccanti Perché io sto là e basta Cioè come sta giocando Luca Come sta giocando Alfio Teniamo una posizione e teniamo quello Poi non tutti possono andare come questo qua Quello è scontato Però se giochiamo alla palla Per noi possiamo ancora Sono un po' più forti di loro tecnicamente Poco non tanto Ok va bene Però se noi teniamo più c'è due Non è una punta che sta là Una L'altro diamo Sette e mezzo per sta roba Queste sono le cose che fanno contenti i mister Ma mister la fai te la pagella alla fine Non dovevo dargli la mamma E i miei tutti i sette per adesso E otto è loro Che hanno fatto sì che i nostri siano sette Adesso si tocca Mauro dai Due minuti Non bestemmiare che sto facendo il video Fai bravo Scusa Adolfo abbi pazienza Ma sai com'è Poi questo Calciamo Calciamo Noi siamo una squadra così come Barcellona Bravo bravo Mauri bravo Bel gesto tecnico No è infortunato per una gamba Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti